Salve a tutti ragazzi ed eccoci qui sul mio canale Allora, siamo qui oggi con una nuova video guida di Black Desert Online Nella quale vorrei parlarvi delle armi e delle armature Ovvero, più in particolare, come migliorarle Come, diciamo così, migliorare le armi e farle diventare da verdi, blu e da blu, gialle Allora, come avrete visto sicuramente anche sul Marketplace Vediamolo insieme un attimo, l'avete visto sicuramente Se andate a vedere le armi, ci sono le armi che sono, vedete, gialle E armi che sono verdi e blu Come vedete anche dal mio inventario Solitamente le armi e le armature base Quelle che, diciamo così, i set e le armi che utilizzate sono verdi Vedete, tipo questa Tipo queste qua Sono verdi Quindi non, diciamo, si può Hanno determinati bonus Che sono quelli del set O comunque hanno bonus come l'arma Che aumentano Aumentando il livello Vedete, io ho l'arma più 15 E l'arma secondaria più 13, eccetera, eccetera E aumentano i bonus Che vi danno Aumentandole, appunto Upgradandole con le Black Stone Ovviamente però Ci sono C'è la possibilità di Migliorare le vostre armi E farle diventare da verdi a blu E da blu a gialle Però ci sono dei processi da fare Per, appunto Migliorare le armi E in teoria anche le armature Io devo essere sincero Almeno Per adesso Sul Marketplace Non ho ancora visto Ah no, sì, eccole qua Che scatso sto dicendo Eccola qua No, non mi ricordavo Il bonus che vi da Che da in più Dove si vede? Non lo so, aspetta Ah no, forse aumenta i DP Forse Vabbè, comunque Vediamo insieme Appunto I processi Diciamo Quello che serve Per aumentare Un'arma In questo caso L'arma Perché vi faccio vedere L'arma in questo particolare video Aumentarla, appunto Farla migliorarla Da verde a blu Innanzitutto Vi servono Alcune cose Diciamo sì Ci sono dei requisiti Fondamentali Di cui avete bisogno Allora Innanzitutto Una casa Una casa Che Sia Diciamo così La forgia Del vostro tipo di arma In questo caso Io ho lo Yuria Amulet E vedete qua Questa casa mi da Yuria Amulet Forge Vedete? Eccola qua E qui ci sono tutti gli step Quindi poi La casa vi serve Poi vi serve Un lavoratore Nella città Nella quale Comprate la casa Perché È il lavoratore Che vi migliora l'arma E quindi Ah vabbè In questo caso Se Facciamo l'esempio Dello Yuria Amulet Facciamo così Vediamo questo esempio Se Dovete prendere Acquistare la casa qua Poi vi spiego anche come Trovare la casa Che vi interessa Avete bisogno Appunto Di una casa E Di un worker Voi direte Cavolo Io però ho già preso un worker Lo sto utilizzando In quella città Per altri scopi Vabbè È facile Cosa dovete fare Andate in città E comprate una casa Con i contribution point Che abbia Come Vediamo se la trovo Dovrei trovarla In effetti Potrei cercarla Ma faccio prima così Che abbia Come Diciamo così Bonus Se la trovo Se almeno non la trovo nemmeno Eccola qua Che abbia Infatti l'avevo anche acquistata Come vedete Che abbia lodging Ovvero che vi permette Di acquistare Di utilizzare Un worker aggiuntivo Quindi per esempio Avete già utilizzato un worker Dice cazzo Non posso prendere un altro Bene Comprate una casa Che vi dia lodging Quindi vi da la possibilità Di usare un worker in più E acquistate Un nuovo worker Dal Andiamoci insieme Dal Work supervisor Andate qua E acquistate da qui Contract worker Con gli energy point Il vostro worker Ovviamente cercate di Se avete un po' di energy point A disposizione Di Di prendere Un worker Che abbia Luck alta Quindi fortuna alta Perché vi servirà Quando dovete fare L'arma da blu A gialla Perché Allora vi spiego perché Allora innanzitutto Rivediamo un attimo insieme Per trovare La casa che vi interessa Dovete andare qua su in alto Chiudete questo Questa è la città Per esempio Crepland Che c'è lo Iuria Andate qua in alto E qua in alto Ci sono tutti i tipi di Di case Ci sono quelle Purchase Usage E ci sono anche Tutti i tipi di case Che vi interessano Quindi quando andate in una città E cercate la vostra arma In questo caso Vi mettete lo Iuria Amulet Ma Ogni casa Ogni città Scusate Ha i suoi tipi di Casa Con Le forge Destinate Insomma Ai diversi tipi di Di tipologie A diverse tipologie di armi Appunto E potete andare qui in alto E cercarle qua Vedete Eccola qua Iuria Amulet Forge Se voi cliccate qua Lui vi da Con una freccetta Vi indica Quale casa Dovete acquistare Per esempio Non lo so Devo cercare la Iuria Staff Per esempio La Staff Sono un mago Sto utilizzando la Iuria Devo cercare la Staff Voi cliccate qua E lui vi dice che qui Si fa Sempre qui in questa casa C'è la possibilità Di acquistare appunto Questa L'abitazione Con La forgia Della Staff Ora noi in questo caso Appunto come vi ho detto La Iuria Amulet E l'abbiamo già acquistata Voi quando ve la segna Quando ve la indica Cliccate qua E fate Acquista In questo caso mi dice Vendi Ma qui avrete Acquista Ovviamente Per fare tutti i livelli Quindi per portarla a gialla Trovare l'arma gialla Dovete Upgradarla A tutti e tre i livelli Questo si fa Con i soldi E con gli Energy Point Se non mi sbaglio Si E Dovete maxarla Per poter avere tutti i tre livelli E quindi portare l'arma Farla diventare gialla Cosa bisogna fare Per trasformare l'arma Da verde A blu Facciamo così Da verde a blu Perché è giallo È una cosa un po' particolare È una cosa a sé Vediamo come è trasformata Da verde a gialla Innanzitutto Dovete lasciare in banca Nella banca Quindi nella warehouse Dovete lasciare la vostra arma Quindi dovete Togliere l'equipaggiamento Tasto destro La togliete E fate warehouse E la lasciate Nella warehouse Poi dovete avere Dei blackstone powder Che potete tranquillamente Acquistare Sul marketplace O Ottenerli Distruggendo I cristalli Quelli Che vi servono Per appunto Come Che Vi servono per la trasfusione Sulle armi E Una pietra Che Ve la dice qua Andiamo in M Ve la dice Nella vostra casa Se voi cliccate sulla casa Yuri amulet forge Vedete qua Vedete qua Allora Qui non segna nulla Non ho ancora capito Perché non segna Io siccome l'ho già fatta Pensavo che qui sbloccasse Diciamo così Il miglioramento dell'arma Invece no Però Se voi la volete fare Verde Diciamo che sono tre step Quindi verde Verde Già Blu E gialla La verde Come vedete Sotto in basso Ci sono i requisiti Allora se faccio così Non li vedete Però sotto Vedete crafting materials Vi servono Yuri amulet Che l'abbiamo messo Nella warehouse I black stone powder Che ne servono cinque L'abbiamo messo Nella warehouse In più vi serve Una grade one Weapon reform stone Una pietra Che vi serve appunto Per migliorare La vostra arma Questa pietra Questa pietra Questa pietra È possibile craftarla Con la raffineria È possibile craftarla Con la raffineria Se non sbaglio Sì Con la raffineria Vediamo un attimo Insieme però Aspetta Aspettate un attimo Che voglio vedere un attimo A Calphion Vediamo Eh ho sbagliato Ok Se io cerco qua Non goldsmith Ma raffineri 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 Eccola qua Vediamo un po' Un attimo Sì Raffineri Vedete Quelle di livello 1 Vi permettono di craftare Le armi verdi Scusate Le pietre verdi Poi ovviamente Dovete cercare La raffineria Di livello più alto Quindi di solito Le case con Tre Tre spunte Che ora non trovo Però dovrebbero esserci Comunque tranquillamente Eccola qua Vedete Raffineri Vi permette di craftare Quelle verdi Quelle blu E quelle gialle Eccole qua Vedete Praticamente voi queste qui Con i materiali Che vedete qui sotto Potete craftarle Anche qui Dovete lasciare un work Quindi comprate la casa Fate l'upgrade Di raffineri a tre Comprate un worker E quando avete tutti gli ingredienti Li buttate nella warehouse Quindi nella banca E mandate il worker A lavorare E a raffinare La vostra pietra Semplice Non c'è molto da fare Alla fine Vedete Gli ingredienti Sono tutti qui sotto Quindi potete farmarli O semplicemente Potete comprarli Dal marketplace Se non avete voglia Comunque È facilissimo Cioè Sono Siccome ve li segna tutti È facile Potete capire Tranquillamente Come andare a farmarli O mandarli a farmare Dai vostri worker Con i nodi Semplicemente Quindi Dopo che avete preso la pietra Vi faccio vedere Dove trovarla qua Si trova in ore E un gemstone Se non sbaglio Eccola qua Per esempio Una grade 2 Weapon reform stone Che questa serve Per farle blu appunto Voi andate qua Costa un po' Costano un po' 167.000 silver Però Diciamo che se avete i soldi Potete anche acquistarla Senza farla Diciamo così Senza craftarla Anche la pietra La buttate qua dentro Quindi la buttate Nella warehouse E avete i tre ingredienti Cosa dovete fare Dopo che avete Preso Diciamo i tre ingredienti Bene Dovete Andare in mappa Andare qua Cliccate sulla casa E fate manage crafting Andate su manage crafting Selezionate Il worker Che Che vi serve Innanzitutto Selezionate il livello Vedete qui ci sono i tre livelli Gialla Blu E verde Selezionate Nel caso Io quando l'ho fatta L'ho fatta blu Quindi selezionate blu Selezionate il worker Che avete a Keplan Che volete utilizzare Lo selezionate E poi fate Start working In cui ci sarà scritto Ora vi dice Che non ho abbastanza ingredienti Perché in effetti Mi manca la pietra blu E mi manca L'amuleto Cioè l'amuleto Ce l'ho già blu Quindi dovrei fare giallo Per farlo Diciamo così Diventare Per aumentarlo Ecco mettiamola così Però Inoltre Qui vi da il tempo stimato Per il Per il completamento Del crafting Però semplicemente Dovete fare questo Quando avete tutti e tre L'ingredienti Quindi la vostra arma Verde se volete Farla diventare blu Blu se volete Farla diventare gialla O in teoria Si può fare anche verde Direttamente gialla Se non sbaglio Però c'è meno possibilità Di riuscita Perché sappiate una cosa Che per fare l'arma blu Avete il successo assicurato Cioè la vostra arma Con questo metodo Diventa subito Blu Direttamente Quando invece Dovete farla gialla Se dovete farla gialla Invece C'è la possibilità Che il vostro Incantamento Diciamo La vostra miglioria All'arma Fallisca Perché appunto Vi ho detto che vi serve un worker Con tanta luck Perché Più luck Ha il worker Più alte sono le probabilità Che il vostro Pezzo Diventi giallo Che volevo dire Appunto Si Selezionate Se volete farla gialla Selezionate qua Avete gli ingredienti pronti E fate start working Selezionando il worker Che è in questa città Fine Il worker inizierà a lavorare Finito il tempo Stimato per La creazione Diciamo così Dell'arma gialla O blu O verde che sia Semplicemente Avrete l'arma Nella warehouse Quindi Voi uscite E andate nella warehouse E la recuperate Avete la vostra La vostra arma gialla Se avete avuto fortuna O blu sicuramente Che volevo dire Volevo dirvi qualcos'altro Vi ho detto in generale Appunto come funziona Fatemi recuperare però La L'arma Sincero Dov'è? Eccola qua Non l'ha preso Ah si l'ha preso Ma sta laggando Probabilmente il gioco Probabilmente sta laggando Male 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 E No Ok Si è ripreso Perfetto Fatemela recuperare Ok Questo processo Ovviamente Cosa fa Cosa serve Non serve solo A far diventare L'arma blu Anzi no Serve per Out Ottenere Un effetto Extra Vedete qui in basso Dove ci sono Item effects Enhancements Effects C'è anche sotto Extra effect L'arma quindi Mi da Più uno Al livello Di casting speed Vedete qua Casting speed Sono a livello 4 Era a livello 3 Con questo bonus Aggiuntivo Sono a livello 4 Se l'arma la fate gialla Otterrete due bonus Ora io non ce l'ho Ma comunque Il processo ve l'ho spiegato Vi faccio vedere da qua Se c'è Vedete qua Sotto A extra effects Come vedete qui in basso Ha due bonus Quindi a Critical hit rate Più uno E attack speed Più uno Questo ovviamente Vi permette di aumentare Al massimo I vostri Vedete Se io avessi avuto Quel bonus in più lì Quello lì in più Avrei probabilmente Aumentato a più 5 Che ne so La casting speed Per esempio E averle al massimo Diciamo che è Essenziale Per soprattutto In pvp Come vedete Anche qua Vi dà dei bonus in più Questa è l'arma secondaria Ora io non l'ho ancora fatta Come vedete È ancora verde Però ho intenzione di farla Eh ho sbagliato Scusate Però se andate nel marketplace Vi fate un'idea Di quello che potete ottenere Con Diciamo così L'effetto aggiuntivo Vedete infatti Che qui sotto Extra FX Vi dà Additional Down Attack Damage Level Più 1 Quindi vi permette Di fare più danno ai nemici Che sono down Quindi che sono accaduti a terra Che sono stati Sbattuti a terra Più 1 Quindi aumenta il vostro danno Di più 1 Questo per esempio Uguale Vi dà lo stesso bonus E questo Lo stesso Però Per esempio Non so se qualcuno Ha già fatto armi gialle Perché in effetti Non so se sono già in vendita O comunque se sono state vendute Vediamolo insieme No a quanto pare No No a quanto pare Non sono state ancora vendute Però vedete più o meno Tutti hanno avuto Questo qui di bonus Quindi diciamo Che in linea generale Questo è il bonus Che vi dà l'arma secondaria Comunque il processo è lo stesso L'arma la mettete Nella warehouse Ci mettete la pietra La gemma E ci mettete Il blackstone powder E questo è quanto Diciamo nulla di più Tra virgolette Non dico facile Però Abbastanza abbordabile Penso che tutti Arrivate a un certo punto Con un po' di soldi Con un po' di crafting Poi ovviamente Se craftate Non fate come me Che sono stronzo Che compro la roba Avete tutto di guadagnato E soprattutto se farmate I materiali Non li comprate L'armatura Come abbiamo visto Funziona allo stesso modo Non l'ho ancora provato Deve essere sincero Ma funziona allo stesso modo Ovvero Mettete l'armatura Nella warehouse Il pezzo di armatura Cercate ovviamente La casa Che vi dà le geria La mia Per esempio le gerian Se volete saperlo È ad idle Se non sbaglio Vediamo un po' insieme Velocemente Fate all Ho sbagliato Fate all E dovrebbe trovarsi qua Se non erro Non armor workshop Ma Egerian armor forge Eccola qua Se andate qua C'è la Egerian armor forge Che vi fa livello 3 E vi permette di aumentare Fino a giallo La vostra armatura In questo caso La mia Egerian Però dovete cercare In giro per la mappa Nelle città Dov'è la vostra E lo stesso principio Ovviamente Vi dà un bonus Blu vi dà un bonus in più Gialla vi dà Due bonus in più Come le armi E tutto il resto Ragazzi Io spero che questo video guida Su come migliorare Le armi e le armature Vi sia stato utile È stato breve Ma alla fine Non c'è molto da dire Il processo è uguale per tutto Sia per l'arma primaria Sia per l'arma secondaria Sia per l'armatura Quindi È tutto molto semplice Semplicemente Vi servono quegli ingredienti Che Quegli ingredienti lì Che vi ho detto L'arma La pietra E le blackstone powder E ovviamente La casa Una città Con la casa Che corrisponde Alla vostra arma armatura E un worker Ovviamente In quella città Che lavori per voi Con la luck alta Ricordatevelo E ragazzi Che dire Vi invito a lasciare un mi piace Commentare Iscrivervi al canale Se il video vi è stato utile Commentate sotto Con i vostri dubbi Come sempre Sarò felice Di aiutarvi E Niente Io spero vi sia stato utile Ci vediamo con il prossimo video Ragazzi Ciao a tutti